Una perturbazione attualmente sulla Francia tende a muovere verso la penisola, pilotando un esteso sistema frontale sulla Sardegna e sulle coste tirreniche. Nelle prossime ore la perturbazione interesserà prevalentemente le regioni centrali e nord-est, con piogge e temporali. In Toscana, mercoledì 4 novembre, molto nuvoloso in mattinata, con piogge anche a carattere di rovescio temporale lungo la fascia costiera, graduale miglioramento dal pomeriggio con residui e piogge, cessazione dei fenomeni in serata. Venti moderati di scirocco sulla costa centro-meridionale, deboli altrove, mari localmente mossi a sud dell'Elba, poco mossi altrove, temperature minime in sensibile aumento, con valori attorno a 10-12 gradi, massime in lieve calo attorno a 18 gradi. Sul territorio provinciale molto nuvoloso, con deboli piogge, moderate sulla costa, miglioramento dal pomeriggio, allucche sulla piana, temperatura minima 12, massima 18 gradi. In Versile sul litorale, minima 12, massima 19. In Garfagnane e zone montane, minima 10, massima 19 gradi. Giovedì, da nuvoloso a poco nuvoloso, con miglioramento più sensibile e stabile nel fine settimana.